Come va? Tutto bene? Sì, 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 tutto bene, tutto bene. Per essere successo. Mi spieghi tu, diavolo? Come preferisci. Buonasera comunque, signor D. È importante per la cattura di Garrett che tutto vada secondo i piani. Va bene. Ottimo. Allora, quindi, la procura lo tirerà in un punto. Voi ci direte quale punto, no? Sì, la procura è già pronta, tra l'altro. Stanno aspettando noi, che andiamo e ci organizziamo. Perfetto, dove dovete andare? Ce lo diranno loro. Loro devono fare già un incontro con lui, quindi non è sospetta. Vi dico già però che si presenterà sicuramente con più uomini ben armati. C'è il DEFCON, quindi saranno pronti a eventuali attacchi. Sì, voi state... Facciamo una cosa. Speriamo che la procura lo porti lontano dallo sceriffato. Perché così attireremo noi uomini allo sceriffato. Quindi lei vuole dividere gli sceriffi? Sì. Fare un po' di casino in modo tale che non siano tutti... Dietro a lui. Sì, ok. Beh, aspetti però. Non so se queste cose si può fare in realtà. Ne ricordo che c'è di mezzo la procura. Non so quanto è d'accordo a attaccare lo sceriffato. Deve essere un lavoro pulito, per quel che può essere una cosa di questo tipo. L'importante è che la procura li attiri fuori dallo sceriffato. Adesso non credo che Garrett starà allo sceriffato, però vabbè, meglio non rischiare. Certo, li attirerà da qualche altra parte ovviamente. Anche perché sanno quello che dobbiamo fare. Sanno che ci sono troppi uomini lì allo sceriffato. Bene, bene, bene. Allora, facciamo così. Noi adesso andiamo dai procuratori, scegliamo il punto. Appena l'abbiamo scelto, vi mandiamo un messaggio. Dopodiché procediamo ad attirarlo. Ok, attendo vostra chiamata. Lei ora si smette in contatto con questo Alvejak. Sì. Così viene direttamente con lei. Va bene. Perfetto, mi avete evitato un bombardamento totale allo sceriffato. Ovviamente dopo che lei l'ha preso si preoccupi di darci la posizione perché dovremmo venire anche noi a registrare, come già detto. Perfetto. Ottimo lavoro. Speriamo che tutto vada bene. Così mi levo dal cazzo questo fiocco rosso. Sì. Dopo un po' ne ho anche francamente le piene le palle, non crede? Un po' tutti credo. Ho perso più di un miliardo di dollari per questo testa di cazzo. Ciao Wave! È una cifra importante. È di solito per quelle cifre noi uccidiamo. Quindi voglio levarmi dal cazzo questa piega. Perché sa, scatenare la mia ira vuol dire vedere un bel po' di sangue, signore. E voi non volete che il sangue arrivi in città, no? Assolutamente no. Perfetto. Bene. È un privilegio lavorare con voi. E non è scontato che io lo dica. La svidania. Ci vediamo dopo. Bene, la svidania. Ci aggiorniamo tra poco. Ci portiamo al 10-20. Ah, guardi che bel gioiellino là dietro. L'abbiamo fottuto a forte Zancudo. Conosce? Sì. Bene. È lì che prendono gli elicotteri quelli del fiocco rosso, quindi. Molto probabilmente. Perché ne abbiamo trovati tanti così. Ah. Bene. La svidania. Ci aggiorniamo a brevissimo. Sì. A dopo. Arrivederci. Arrivederci. Se il fantomatico fiocco rosso, come dice lei, è una persona che vuole prendere il potere sia al lato criminale che legale. Sei il procuratore. Giusto, no? Essere un membro che vuole comandare tutto. Così almeno c'è solo una legge in questa città e non ci può essere fraintendimento alcuno. Giusto? Quindi anche lei converge con me che i sospettati maggiori sono proprio i procuratori. Convergo con lei che abbiamo la stessa mentalità. Ma che cazzo c'entra convergere? Beh, vuol dire girare sulla stessa strada, anche se si dice in un altro modo, ma siamo ignoranti. Detto questo. Conviene, converge, è uguale. Mi lusinga sentire sta cosa. Bene. Lusinga l'ho imparato su Discovery Channel. Ah, essere un gangster... Come si dice? Un gangster corto. Aulico. Aulico. Allora, il procuratore... Con la pasta e fagioli. L'ha portata lì. Cioè, c'è uno di me ne ho detto che ho molta corruzione. Riesco a parlare con ogni membro. Sono riuscito a parlare perfino con lei in modo pacifico, si ricorda, no? Sì. Riesco a manovrare tutto. Ecco dove sta l'arcano, signor Pat. Ecco perché io e lei siamo molto uguali. Lei mi può comprendere, lo so. Perché quello che sta facendo Fiocco Rosso è esattamente quello che ho iniziato io. Ecco perché non possono coesistere due che ragionano allo stesso modo. Adesso ha capito perché la mia non è paura, ma è solo ambizione. Io voglio governare lungo o largo. Sì? E quindi ha bisogno della procura per farlo. Ho bisogno della procura, ho bisogno dell'aspetto legale. E chissà se all'interno della procura non c'è proprio un nostro adepto. Eh, credo che ci sia. Esatto, chissà se un giorno non riusciremo proprio a fare leggere un governatore che sia dalla parte nostra e anche dalla parte vostra. Signor Dio, dove sono quei due cazzoni? Quella che è la mia etica. Dove sono? Quei due cazzoni. Arrivati. Faccia, faccia. Signor Pat. Salve. Wow. Allora, sono emozionato, cazzo, sono emozionato. È la prima volta che lo vedo così. Come sei vulnerabile. Faccia di merda. Chi è lei? Non ho capito, signore. Succhiamo il cazzo, coglione. Te lo faccio vedere chi sono, tranquillo. Oh, no. No. Non è così. È così. Bella quella maschera. Sì. Era bella. Era veramente bella. Guarda il tuo collega. Guardalo. Lo vedi? Guarda. Lo vedi? È un genio. È un genio. Mi devi credere. È tra le persone più fantastiche che abbiamo conosciuto. Cioè, io ho dovuto dare uno schiaffo per parlare e dieci per farlo star zitto. È un po' come ciccio. Ce l'hai presente, mio fratello? È uguale. Mi aveva detto che era morto, sbaglio. Sì, sì. È morto. È morto. Beh, però è un bene, eh. Guarda che è stato un bene quello. Ma perché devi parlare di lui, cazzo? Me l'ho dimenticato quasi. Vuoi farmi piangere? No, no, non piango per ciccio. Ok? L'ho voluto io, morto. Fatto! Come stai? Tutto bene, tu come stai? Sei in forma, cazzo? Sì, per essere il mio giorno di vita sono super in forma, non pensi? Oh, l'ultimo. No, non è un giorno, sai. Un giorno è composto da 24 ore. Tu hai qualche ora. Se facciamo veloce magari la riduciamo a qualche minuto, ok? Cercherò di fare il prima possibile. Va bene? Però prima voglio bruciarti la testa. Come hai fatto tu con le mie palle? Ti ricordi? Io ti ho bruciato le palle. Sì, sì, tu mi hai bruciato le palle. Quando ti avrei bruciato? Beh, 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 beh. Dimi un po'. Quando? Fino a ieri, fino a ieri non credevo fossi tu, ok? Poi il tuo collega ha fatto il resto. È un coglione. Il collega ha fatto il resto. Stai zitto, sto parlando io, cazzone. Vuoi parlarmi sopra? Mi scusi, mi scusi, signor Boots. Porca troia, ma questa mania di protagonismo che c'ha la gente, perché? Ehi, Pat, sei nella merda. Beh, ti dico una cosa, Pat. Sì. Quel deficiente del tuo collega si è dimenticato un particolare, ok? Allora, tu non lo sgridare, poverino. Cioè, era tutto emozionato ogni volta che parlava, capisci? Quindi, se tu lo sgridi, è un casino qua. Non ne usciamo più. Ok? Quindi ci pensiamo noi. Io gli farò delle domande e lui risponderà. Non aprire quella bocca del cazzo, perché non serve. Non lo so, Sara. Tu devi solo ascoltare con le tue orecchie. Sì. Va bene, piccolino. Va bene. Va bene. Va bene. È emozionante. Vero? Voi siete emozionati, maracazzo di punta. Molto, molto. Io anche sono emozionato. Signor D, finalmente ce l'ho fatta. Visto? Sono il numero uno in questa città. Non è vero, non è vero. Cioè, nel senso... Beh. Ragazzo? Ehi. Sì. Ci sono. Ci sei? Sì. Ehi. Tu dopo devi... Adesso devi ridire tutte le cose che hai detto prima, ok? Mi raccomando. Gli errori si pagano. Eh, sentite, signor D. Gli errori si pagano, cazzone. Quindi, se sbagli... Beh. Vedi qualcosa? Secondo me, se cadi laggiù ti fai male. Non ti mani pensieri. Vuoi che ti faccia vedere? Steve, prova a lanciarti, Steve. Fagli vedere cosa succede. Col cazzo, cazzo. Da quando sei così intelligente, cazzone? Vaffanculo. Porca troia. Da piccolo ti lanciavi dalle sedi, quando te lo dicevo. Lo provare te. Ehi, cazzone. Tira giù il borsone. Vede dove gli errori si pagano, signor Pat. Coraggio. Tira giù il borsone, piccolo. Vedremo. Non aveva fatto conti con tutto. Sì, bravo. Fagli vedere il vestito che ti sei dimenticato, cazzone. Oh, porca troia. Guarda com'emozionante questa cosa. Uh, Team Rocket. Ce l'abbiamo? Fiocco rosso. Porca troia, uno sceriffo. Oh, beh. Ah. Hai sbagliato qualcosa. Questa è la divisa del fiocco rosso? Ma piccola, una piccola cosa. Beh, a parte l'interpretazione. Sì, Pat, Pat, te lo spiego. Cosa ho sbagliato? Un attimo, fammi finire, cazzo. Siamo nel... Ah. Non senti la voce come trema? Eh? Sono emozionato, Pat. Wow. Finalmente ho trovato chi mi ha bruciato i coglioni. E non pensavo che fosse un coglione, cazzo. Ah. Bene. Pat, ti dico questa cosa, ok? Quella testa di cazzo che c'è a fianco. Sì. Si è dimenticato i vestiti nella borsa. Mi ha passato il suo borsone. Io ne sono responsabile dei suoi vestiti. Non mi è chiaro. Ehi, ehi, aspetta. Sono uno stilista o uno sceriffo io? No, no, non sei uno stilista. No, no. Cioè, c'hai l'aria dal stilista quando metti tipo la manina così, però... Quelli sono particolari, ok? Non è quello che ti ho chiesto. Ha dimenticato la divisa del fiocco rosso nel suo borsone, capito? Cosa hai raccontato? Eh, wow, ho detto delle cose stupende. Eh. Casualmente coincidono anche. Piccolino. Giusto per ricordarli. Allora. Racconta un po' come mi hai conosciuto. Coraggio. Quando siamo andati a fare l'assalto a casa di Marabunta. Wow, te lo ricordi? Quello arresto è meraviglioso. Aspetta che io lo cerco di ramentare. Ti ricordi quell'arresto del cazzo, Pat? Ma in realtà... Sì, sì, è vero. Forse è una finta. I cristiani che gli abbiano dato dei soldi sporchi. Avete fatto tutto voi quella sera là. Però non lo so se realmente è uno sceriffo, eh. Wow. Ma qualcosa è andato male. Già, già, già. Bravo, bravo. È proprio qui che siamo arrivati. Fermo, fermo. Non mi interrompere che è la parte più bella. Ehi, fallito del cazzo. Racconta. Però scusa, non se ne accorgi se non è un nostro sceriffo? Oh, sì, sì. Bravo, ti ricordi. È proprio quello. Aspetta, hai organizzato il ciocco rosso per le varie alveglia. Eh, però c'ho... Bravo! Ok, pensavo che... Però mi metti in ginocchio, però dillo da in ginocchio che è più bello, capisci? Come se ti stessi ammazzando, cazzo. Devi essere credibile, ok? Eh, però... Però questo cazzone è talmente scemo che non ti crede neanche. Eh, lo so, Lelle, però... Nel senso, può fare un meta-IC, nel senso... Che sa che non è lui, quindi dice... Ok, so che stanno bleffando. Come prima... Come prima, ha fatto come al telefono. E cosa mi hanno fatto? L'hai torturato. Mi hai torturato, patto! Io ti ho torturato? Mi hai torturato! Io ti ho torturato. Oh, cazzo! Oh, porca puttana! Merda, 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 merda! Sei stato tu, faccia di merda! Sì, sei stato tu! Sei stato tu! Bravo, bravo! Poi, raccontagli ancora, coraggio! Una volta liberato, sei andato da loro avendogli il crack. Sì, sì. Senti, avete anche un inno con questo fiocco rosso, eh? Te ne dico io una. Sarebbe stato molto più credibile, patto! Sarebbe stato molto più credibile, patto! Sarebbe stato molto più credibile, patto! Eh, non lo so! C'è un mento! Mi scusi, ma la signora Alvec l'ha chiamata così, cosa ci siamo detti. Secondo me, lui, per una questione di orgoglio personale, ora non parla. A chi? Perché tanto sta che è inculato, patto. Ah, patto, già parlato! Ai signori qui? Bah, so. Ma, ha già messo tutto. Che stessi, ha messo tutto? Eh, voi ve ne siete andati, cazzo, vi perdete più bello. Beh, sì. Sì, ha confessato, ha confessato. Beh, ha confessato che è venuto da me, ha confessato che non è mai stata zismessa nessuna dea, sì, cazzo, perché cazzo ve ne andate, cioè, che avete sto pizzo di me. Eh, questo è stato zitto un'ora, poi ce l'è riuscito a parte. Eh, proprio quando vi siete andati voi, sì. Ma veramente ha messo? Diga anche che ha accusato il procuratore. Il suo collega. Ma quando ha confessato? Beh, diciamo che ha avuto un bel dialogo col procuratore, dicendo che la dea non è mai stata zismessa e quindi... Questo è un principatto. Ha detto che i coglioni non viaggiano mai da soli e loro stanno insieme. Tè, la roba che ha detto che non è stata dismessa e che non c'è stato nulla di firmato è una prova? Un po' di luce. Non fate casino, ragazzi, qua, non fate casino. Ha confermato di non avere un documento di dimissione, ma io come le ho detto, visto che lei cerca i documenti, allora cerchi un documento dove noi approviamo la... Tenete le macchine. L'autorizziamo. Cazzo ci fa una bella zera tre. Ho detto la procuratore di lui stesso che l'ha autorizzato. Porca puttana, guarda se si ferma sto coglioni. Ha detto che l'autorizzazione era arrivata da un'altra parte. Gigi. Gigi. Anzi, coi pollici così, perché ce l'ho messo al contrario, Gigi. Signor Pat, lei sta... Lei sa perfettamente che in questo momento si potrà difendere in maniera eclatante, vero? Mi dica la verità. No, signore, io non so che mi posso difendere in maniera eclatante, perché davanti alla morte nessuno riesce a difendersi. E non farò di lei un martire, signor Pat, io l'assicurerò di giustizia, già gliel'ho detto. Andrà a processo, com'è giusto che debba andare, comprende? Comprendo. Non sarò io a ucciderla. Davanti un procuratore, poi. Mi ucciderà la legge, ma... Gigi ti ucciderà la legge, ma tu sai perfettamente come sdegliare la legge. Sai perfettamente come difenderti davanti ai giudici. Nessuno ha prove su di te, vero? Esatto. Esatto. Il procuratore, però, è molto bravo a crearle. Sì, ma dovrà convincere un'intera giuria, comprende, no? E se non ci riesce? Soprattutto se lei paga bene la giuria, o magari gli punta un fucile contro le mogli, i figli, o contro loro stessi. E farò di lei un martire, però, ugualmente. Sì. Non arriverei al mio scopo. Non sono una verità, però farà di me un eroe. E i suoi uomini? I miei uomini? Sì. Dai, parliamo come se non ci fosse un domani, signore. Su, parliamo io e lei. E i suoi uomini? Una volta che lei è arrestato, che mettiamo caso riesca a corrompere tutti e le arrestano. Ok? Lei è la testa. I suoi uomini si troveranno allo sbando, no? Ma comunque ci saranno. Ci rifatto, intende? No, diciamo la dea, ok? La dea? Diciamo la dea, sì. Facciamo che diciamo la dea. Perfetto. Quindi i suoi uomini continueranno quello che lei ha già creato. E non finirà mai. E invece io non voglio questo. Ha meno di dodici ore per convincere i giudici. A meno di dodici ore per convincere gli altri procuratori. A meno di dodici ore per far sì che tutte le prove che ha preso questa sera... Tenga. Mi passate l'SD della cam, per favore. Le do anche quello che abbiamo registrato, ok? Grazie. Che questo mi serviva. Ovviamente avrà solo le confessioni, no? Quello che ha appena visto. Assolutamente. Non ti ho fatto ridere a te. Lo porterà a processo. Sì. Un cadroio. Ha compreso? Sì, sì, sì. Bene. Certo. Eh, non lo so, Lordo. Ha tutto il materiale, quindi. Ha tutto il materiale, sì. Mi sa che passerò la notata a scrivere. Cioè, mi sa che se lei riuscirà a fare il gastolare il signore, lei entrerà nella storia insieme a tutti coloro che hanno collaborato in questo caso. Insieme a tutti i voli della legalità. Tutti gli azzurri ci sono. Entro un momento, vice procuratore. Avrò fatto solo il mio lavoro, eh. LSPD, procuratori, avrete tutti una buona testata di giornale. A questo momento noi criminali continueremo a fare il nostro e speriamo che le nostre strade non si incrocino. Mi ci verranno un grandissimo applauso, sì. Sì, anche una medaglia al valore, non crede? Ovvio. Mi faranno un bel sorriso falso. Sì, un bel sorriso falso. Sì.